Rosana Scopellitti è qui a Urbino per parlare ai ragazzi del liceo classico Raffaello, perché è importante parlare con loro di lotta alla mafia e ad ogni forma di criminalità organizzata? È fondamentale perché sono loro che avranno le retini di questo paese un domani e quindi secondo me è importantissimo che siano coinvolti e che sappiano soprattutto i gravissimi problemi che creano comunque tutte le mafie, quindi sia per le famiglie che vengono colpite purtroppo che purtroppo il potere delle varie mafie è qualcosa che non si riesce nemmeno a controllare secondo me e quindi riuscire comunque a parlare ai giovani in modo che loro abbiano il coraggio e la forza di dire no, di contrastare questo strapotere che purtroppo cerca di infiltrarsi in tutti i modi nelle nostre vite è importante, è fondamentale proprio.